Di Fabrizio De Andrè? Eh sì, è un mito Fabrizio. Mi è spiaciuto tanto che non ci sia più, poi sono, come dire, ho conosciuto, ho avuto modo di conoscere anche Cristiano, il figlio, anche la sua moglie, e quindi ho un ricordo splendido. Nel 1974, dopo il divorzio dalla prima moglie, inizia una relazione con la cantante Dori Ghezzi. E nel 1975, dopo aver rifiutato per tanti anni il faccia a faccia con il pubblico, debutta nel locale simbolo della Versilia, la bussola. Nonostante i suoi timori, infatti sembra che all'ultimo momento non volesse salire sul palco, il concerto fu un vero e proprio successo. E con i soldi guadagnati, cosa fa? Compra un'azienda agricola in Sardegna, nelle vicinanze di Tempio Pausania. Nel 1977 nasce Luisa Vittoria Dettaluvi, la figlia avuta con Dori Ghezzi. De André è stato anche vittima di un sequestro. Vuole raccontarci che cosa successe? De André viveva insieme a Dori Ghezzi. De André si era sposato la prima volta nel 1962, molto giovane, aveva 22 anni. E poco dopo aveva avuto il suo primo figlio cristiano. Dopo una decina di anni il primo matrimonio era fallito e aveva cominciato una convivenza con Dori Ghezzi. Dori Ghezzi vivevano appunto in questa tenuta in Sardegna, comprata a metà degli anni 70 e nel 79, verso la fine di agosto del 79, l'anonima sequestra Sarda, li prende, li porta via e li tiene per quasi quattro mesi prigionieri all'aperto, legati ad un albero incatenato, coperti da un telone. Una vita terribile in cui però Fabrizio De André riesce comunque a instaurare un contatto anche con i suoi rapitori. Viene liberato dopo il pagamento di un riscatto, trattato soprattutto dal fratello, che era di circa 600 milioni. La notte del 27 agosto del 1979, quando oramai viveva stabilmente nella sua tenuta di campagna in Sardegna, Fabrizio De André viene rapito insieme alla sua compagna, Dori Ghezzi, dalla anonima sequestri. Il sequestro dura quattro mesi, durante i quali vivono tra le montagne della Sardegna, incappucciati o incatenati sotto teli di plastica. Soprattutto i primi giorni furono realmente drammatici, in quanto rimastero incappucciati per tutto il periodo e per poter mangiare venivano imboccati dai sequestratori. Nonostante questo comunque Fabrizio De André e Dori Ghezzi riuscirono a instaurare un buon rapporto con i rapitori, tant'è che una notte dopo aver bevuto un po' troppo uno di loro, finì per lasciarsi andare e dire che era dispiaciuto della prigionia e soprattutto per Dori Ghezzi. Al processo Fabrizio De André perdonò i suoi rapitori, ma non i suoi mandanti. Da questa esperienza del rapimento nasce anche un album, un paio d'anni dopo, nel 1981, un album senza titolo, comunemente detto l'album dell'indiano perché sulla copertina c'è la figura di un indiano a cavallo. Un indiano perché? Un album che è soprattutto sul rapimento, che contiene canzoni come Hotel Supramonte, come Il canto del servo pastore, come se ti tagliassero a pezzetti, contiene anche una canzone bellissima, stupenda, una delle più belle scritte da De André, Fiume Saint Creek, con una specie di parallelo fra la storia dei Pelle Rossa e quella dei Sardi, che sono vittime tutte e due di quasi una riserva e una dominazione culturale che gli toglie il modo di vivere, la propria cultura. In Fiume Saint Creek c'è la storia di una specie di generale Caster, che non era in realtà il generale Caster, era il colonnello Shivington. Questo massacro del Saint Creek c'è stato davvero, mentre gli uomini della tribù erano a caccia, il colonnello attacca il villaggio abbandonato in cui c'erano soltanto donne vecchie e bambini e fa una strage terribile. Ci fai un ritratto di De André Poeta? Io sono rimasto impressionato una volta in un'antologia di letteratura italiana. Io non amo moltissimo i cantautori perché al di fuori delle canzoni rimangono dei testi abbastanza che scoprono tutta la loro banalità, funzionano quando sono messi all'interno di uno spartito musicale. Devo dire che per De André questo non succede mai perché il De André Poeta supera di gran lunga il De André cantautore e compositore di musica, per cui credo che De André appartiene sia alla musica ma forse appartiene di più ormai alla letteratura. De André ha spesso tradotto altri autori o si è ispirato a opere letterarie, ma che cosa c'è di veramente suo nelle canzoni? Un critico musicale, Bertoncelli, bistrattato anche da Guccini in una sua canzone in cui dice ci sarà sempre un Bertoncelli o un prete a sparare cazzate, citazione da Guccini, è un testo di Guccini scusate, ha scritto che in realtà De André ha scritto meno di 20 canzoni perché quasi tutte le altre sono citazioni di altri cantanti, citazioni di altre canzoni o ispirate a scritti letterari. In realtà per buona parte è vera, addirittura anche una delle sue canzoni più famose è Via del Campo, la musica non è di De André, le parole sono di De André, la musica non è di De André, è ripresa da un canto popolare che era stato ritirato fuori da Dario Foa e Iannacci e che in effetti è praticamente identico. Lo stesso Iannacci l'ha inciso in realtà con il testo originale e in un disco bellissimo fatto dopo la morte di De André, un tributo Faber Amico Fragile con canzoni di De André cantate da altri cantanti o da altri gruppi, ha cantato Via del Campo con la musica della canzone originale il che non toglie che tutte le canzoni siano perfettamente opera di De André perché in tutte le canzoni troviamo la sua impronta forte e originale. Ho appena comprato la raccolta di tutti i suoi versi, è un librone così dove c'è anche un cd con uno nel suo spettacolo dal vivo e per me Fabrizio De André è sempre il numero uno accanto a un altro grande poeta che è Domenico Modugno. Tra le sue canzoni è possibile trovarne una che lo rappresenti in modo particolare? Tra le sue canzoni sì, c'è una canzone che lo rappresenta in modo particolare ed è il suonatore Jones nell'album dell'antologia di Spoon River. Il suonatore Jones dice e poi se la gente sa e la gente lo sa che sai suonare, suonare ti tocca per tutta la vita e ti piace lasciarti ascoltare. Questo è praticamente il suo autoritratto, l'autoritratto di un uomo che dietro un vortice di polvere gli altri vedevano siccità, a me ricordava la gonna di Jenny in un ballo di tanti anni fa. L'estate del 1998 Fabrizio De André fu costretto a interrompere il suo tour. L'attacca eseguita il 25 agosto non lascia speranze, tumore ai polmoni. Tutti i critici di musica sapevano ma nessuno scrisse niente. Pochi mesi dopo, alle 2.15 dell'11 gennaio 1999, Fabrizio De André muore presso l'Istituto Tumori di Milano. L'attacca eseguita il suo interrompere il suo interrompere il suo interrompere il suo interrompere. Grazie per la visione!